In attesa di arrivare a Catania città, Marco Motta si è già aggregato al gruppo rosso-azzurro. In queste immagini esclusive girate nella serata di ieri, infatti, il neolaterale destro delle Catania si è recato accompagnato dal padre in stazione centrale a Milano, dove ad accoglierlo, come si vede, c'era il direttore sportivo delle Catania, Pippo Bonanno. Quelle che state vedendo sono infatti le immagini dei due in fila all'interno della stazione, in attesa di poter fare il biglietto solo andata per Firenze, dove nella serata di ieri, intorno alle 21.30, hanno raggiunto il gruppo rosso-azzurro, che oggi giocherà, lo ricordiamo, contro il Siena. Motta dunque sarà in tribuna per l'occasione e potrà seguire i compagni nel primo impegno da rosso-azzurro, in attesa presto di poter scendere in campo con i giocatori rosso-azzurri e contribuire alla causa del calcio Catania.